E' finita la fuga dell'uomo che mercoledì scorso a Favara non si è fermato all'alte dei carabinieri investendo con un fiorino un sotto ufficiale dell'arma. Si tratta di Michele Bellavia, 48enne del luogo, che nel primo pomeriggio di sabato, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Enrico Quattrocchi, si è costituito nella caserma di Biolanda. Le accuse contestate nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale d'Egrigento sono di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Ancora da accertare motivi che hanno spinto il 48enne a scappare, il fiorino su cui viaggiava era comunque sprovvisto della copertura assicurativa. A Michele Bellavia sono stati concessi gli arresti domiciliari.